Sono il che ha bisogno della vostra velocità Metti mi piace ora per essere super veloce E aiuta Sony scrivendo sotto i commenti Hashtag velocità Yuhuu Ciao a tutti ragazzi sono Lorenzo E hanno fatto un simulatore di velocità Su Sonic Sonic No troppo bello Oggi diventeremo Il pinguino più veloce di sempre Come no Si invece cioè Devo diventarlo Insomma lo scopo di questo gioco è quello di Correre veloci quindi Cargo fast Ma questo non è un simulatore di velocità E' un simulatore di Ma che è Ma che perché sono letto Aiuto sono diventato una palla di riso Un'arancina più che altro Cioè posso spinnare E poi posso essere veloce No vabbè non ci credo Per diventare veloci Cosa devo fare Devo raccogliere questi smeraldi del caos Più smeraldi del caos E raccolgo Più divento veloce Guarda Mi sento già più veloce Pingu Sento più veloce Iaaaa Ma è troppo bello Sto diventando velocissimo Vai Ma non sono molto veloce Le rubacche sono più veloci di me Ok iniziamo a diventare veloci Ho bisogno di tanti smeraldi del caos Così posso andare sopra quegli anelli Vai Pingu Più smeraldi del caos Se ne accogli Più veloce diventi La metto un giro della morte No Vabbè Pingu Ma tu hai il potere Di tutti i pinguini con te Quindi ce la puoi fare Intanto prendi gli smeraldi del caos Non si sa mai No vabbè No vabbè I loops Possono essere difficili all'inizio Ho bisogno di velocità E non sono lì Voglio essere come loro Ok Posso prendere Vai Pronti Partenza mia Niente Non ce la faccio Non ce la farò mai Non ce la farò mai Che velocità mi sto dicendo Non ci credo Sto diventando sempre più veloce Ciao Sonic Che bello che sei Ma c'è un modo per essere te Ragazzi A Pingu Non piacciono le verdure Però se vuole essere veloce E' costretto a mangiarle Però ho un'idea migliore E se per essere più veloci Ci mangiassimo un Kinder A proposito Qua possiamo sbloccare Pure i personaggi Cioè Posso sbloccare Sonic Tails Nankles E chi è questo? Non vuol dire Super Sonic Ciao Ciao siate veloci Hashtag Velocità Dobbiamo essere molto più veloci Andiamo a fare Un loop Sono sicuro che riuscirò a fare loop Guardate con che velocità Vai Ancora di più Livello 7 Vabbè ma quanti livelli Green Hill O B1 E possiamo trovare Sonic Davvero? Vediamo se riusciamo Oh attenzione Press jump Hold jump Ok Vai No 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 Guarda c'è Sonic Che mi insegna come farlo Vai Sonic Dimmi tutto Si Sonic No Sonic Pure tu Ma com'è possibile sta cosa Questa O B è maledetta Abbiamo bisogno di più velocità Per farlo Quindi Vai Guardate Appena salto pure Salto pure Guardate quello smeraldo Secondo me dà un sacco Vediamo Che si che dà un sacco Si che dà un sacco Già a livello 14 Tra poco inizia la gara Alla prossima gara voglio partecipare Non sarò velocissimo Anche perché devo ancora Velocizzarmi Però guardate qua Guardate qua Guardate qua No ce l'ho quasi Vuoi startare la gara? Si adesso corro Guardami Vai Siamo pronti Chi viene con me? 3 No Ho già perso Io non sono così Ma non è giusto però Non vale Cerco di essere più veloce Vai Vai di più Di più Di più corri Spinna Guardate qua Si ma non è giusto Però guarda T'ho aumentato la mia velocità Con queste gare Si Grazie alla vittoria No perché sono arrivato secondo No perché sono arrivato secondo Ehi non è giusto Tu bers Sei una patata No No sto iniziando a correre Ti prego corri Ti prego corri Sto iniziando a diventare Veloce Vado a 72 km orari E vai Pingu No Ora si che si ragiona Ora si che si ragiona Sì Sì That's la vittoria Abbiamo fatto il nostro primo loop della vita Ora diventeremo ancora più veloci C'è una gara Vuoi parteciparci? Sì Adesso ci siamo Io contro Gabri Gabri No c'è pure tu bers Più velocità Mettete Mi piace per la velocità Vai Più velocità Più velocità Più velocità Più velocità Siamo primi Siamo primi Siamo primissimi Vai Di più Di più Di più Di più Forse abbiamo vento Abbiamo vento Abbiamo vento Danza della vittoria Perché siamo arrivati I primi Sono velocissimo Yeah Questo è in merito Di tutti i kinder pinguini Ragazzi Il nostro cibo preferito Ah ma posso sbloccare Anche i pet Ah sì Posso sbloccare Anche i pet Ne abbiamo mille Quindi Un pet Cosa dà in più? Vai Vediamo chi è questo pet Fammelo vedere Dov'è? Eccolo Wow Ciao ciao Ti chiamerò Ciao Però con la Io Ok vabbè No 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 Ecco L'esperienza Di essere una palla D'arancino Lost Valley Mondo 2 Posso già sbloccarlo? Posso già andarci? No Ma che è sta cosa Ma che è sta cosa? Prima Ah 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 Ok Ho sbloccato un nuovo mondo La valle perduta Ma com'è possibile? Non ci credo Ho fatto sbloccare il deserto Ma è proprio deserto Non c'è nessuno Pingu qua Però sono ultra veloce E questo mi piace Fammi fare questo Oh Wow Wow Guarda Una Sonic Card Se tu la collezioni Puoi giocare con Sonic Eccola Ma di là ci posso arrivare Aspetta Devo arrivare qua Qua Sì 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 Devo arrivare là sopra C'è la Sonic Card Sì No dall'altra parte Dall'altra parte Ti prego No dall'altra parte Dall'altra parte Non di qua Devo prendere la Sonic Card Sì Allora Non è così difficile Allora Io devo andare qui Devo mettermi qui Sì La Sonic Card Oh Mi ho preso Sonic E poi Più forte E ora Nuovo personaggio Sonic Vai Eccomi Ciao la Sonic Ciao Guarda Vado più veloce di tutti Cioè E in realtà no Però Però va bene lo stesso Adesso siamo molto più veloci Sì Così ti voglio Vai Sberaldi del caos Facciamo un po' di caos Giriamo qua Uiii Vabbè ma quanto sono veloce Vabbè ma quanto sono veloce Ok questo lo posso fare Questo stavolta lo posso fare Guarda Sono Sonic Uuuu Quello era quello difficile Ce l'ho Ce l'ho Vai 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 Di più Dobbiamo prendere in corsa Di più Di più Mi sembra più velocità Velocità Metti mi piace ora Per la velocità Vai Vai Sì Sì Nooo ci mancava poco Gara Chi finché è migliore Ma lui è più veloce Grazie A una rinascita Io no E infatti lo sapevo E infatti lo sapevo io Quello è molto più veloce E infatti Eccolo E infatti Guarda che veloce Ma dai Ma non è giusto Troppo Deloria Ragazzi Ok il video di oggi Su Sonic Speed Simulator Lo posso anche concludere qua Spero tantissimo Che vi sia piaciuto Qua e nulla Iscriviti al canale Se non l'hai ancora fatto Alla scienza Comunicini su Qua il vostro Lo resiste è tutto E noi ci vediamo A un prossimo video E Ciao